Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con i attratti per traffico intenso verso nord tra Firenze Nord e B1 Variante. Ci spostiamo in Fipilì dove restano rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze e code ad un chilometro sempre per cantiere in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli-Valdarno. Ricordiamo inoltre che in Fipilì è chiusa per lavori fino al 18 di questo pomeriggio l'entrata di Cascina in direzione SGC Firenze-Rivorno. Per la canteristica sul raccordo Siana-Firenze possibili disagi per carreggiata chiusa tra chilometro 53 e chilometro 51 in direzione sud. Ricordiamo inoltre che sono in vigore diversi provvedimenti di mobilità su varie strade dell'Alto Mugello a seguito degli eventi meteorologici del 16 e 17 maggio scorsi. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!